Grazie, sono infastinita dalla luce, scusate. Aggiungo una breve presentazione a quella di Carola. Sono ovviamente sarda, l'accento penso si sente evidentemente. Ma vivo nel nord d'Inghilterra da circa sei anni, precisamente a York, dove ho lavorato per anni come educatrice per bambini con bisogni educativi speciali. Da tre mesi lavoro come sviluppatrice di CityWeb. Giusto un piccolo cambio. Infatti sono qui per raccontarvi da cosa nasce questo mio interesse e come ho fatto sì che fosse poi la mia professione. Intanto il tutto inizia nel marzo 2017 e nasce da una mia passione che è quella per la cucina. E inoltre da un mio desiderio di raccogliere ricette e poterle poi condividere. Da qui appunto l'idea di creare un sito di ricette. Per cui da questo momento in poi dedico qualche oretta nel weekend a imparare HTML, CSS. Inizio ad avere il mio blog su WordPress. Posto quasi regolarmente. Postavo quasi regolarmente. Dopo qualche mese, quasi immediatamente ho iniziato a avere i primi risultati. Infatti, scusate, rompererò questo. Non è bellissima. Però questa fu la prima versione del mio sito di ricette. Che al momento la guardo oggi e mi vergogno terribilmente. Ma all'epoca era un risultato fantastico. Ero talmente entusiasta che mi chiesi se potessi in realtà farlo come lavoro. Perché non accettavo il fatto che potesse essere solo un hobby. Per cui, cosa ho fatto? Ho raccolto informazioni tra conoscenti, blogs di developers online. E scopro, a mia sorpresa, che l'allare in informatica intanto non è assolutamente obbligatoria. ma soprattutto molti sviluppatori sono autodidatti. Ora apro e chiudo una parentesi. Chiaramente non conosco bene la realtà in Italia come sviluppatore perché non l'ho mai fatto. Però in Inghilterra questo è lo scenario che ho in realtà. Per cui una volta fatta questa scoperta capisco che non sono totalmente pazza. Quindi nell'estate del 2017 decido che continuo a lavorare, a implementare il mio sito di ricette con l'obiettivo poi di farlo come carriera, come lavoro. Il percorso si rivelò particolarmente più lungo, non semplice chiaramente, perché intanto nell'estate 2018, esattamente un anno dopo, mi rendo conto che proseguo abbastanza a rilento, per cui capisco che devo prendere una decisione importante e per me fu quella di lasciare il mio lavoro da educatrice. A questo proposito vi porto questa citazione da un libro che mi ha ispirato particolarmente durante questo percorso. È di Richard Branson intanto, fondatore di Virgin. E lo consiglio vivamente a chiunque di voi sta o intraprendendo un nuovo percorso di lavoro, cambiamento, qualsiasi cosa, in quanto lui condivide veramente interessanti esperienze di vita, sia come imprenditore che come uomo. Lo consiglio vivamente, se potete. E si chiama Il coraggio di rischiare. La leggo, magari, non so se in fondo la vedete bene, qualsiasi cosa vogliamo essere, qualsiasi cosa vogliamo, possiamo farlo. Il primo passo è la parte più importante di qualsiasi lavoro. Dico questo perché questa citazione mi ha fatto realizzare quando ho fatto il mio primo passo e fu esattamente quando ho lasciato il mio lavoro. Infatti, nel settembre 2018 inizio a lavorare come cameriera. Lascio il mio lavoro, giustamente. In quanto era un lavoro abbastanza semplice e flessibile. Allo stesso tempo non fu una scelta semplice perché, giustamente, i turni erano abbastanza variabili e non mi consentivano di essere costante nello studio. Mi soffermo su questo concetto in quanto la costanza è un aspetto fondamentale. In realtà, tra il tuo obiettivo e la realizzazione del tuo obiettivo c'è la costanza. Per cui, durante questo periodo, ho sfruttato al massimo i tempi morti che avevo nell'arco della giornata e ho realizzato che ne avevo parecchi e li sprecavo. E li ho sfruttati per leggere principalmente blogs di altri sviluppatori dove raccontavano storie, donne che hanno cambiato carriera, non necessariamente in technology, però comunque che hanno affrontato un percorso di cambiamento. Li ho sfruttati per ascoltare podcast, il che era un po', all'inizio è stata dura perché li ascoltavo durante il mio tragitto da casa a lavoro. Avrei preferito ascoltare musica, ma era più importante ascoltare i podcast in quel momento. E infine, ormai diffusissima la sfida dei 100 giorni di coding, qualcuna la fa, qualcuna la conosce, immagino di sì. Diffusissima e importantissima per due motivi. Intanto l'idea di twittare regolarmente, quotidianamente ciò che stai imparando ti obbliga a fare, anche se poco, ogni giorno e quindi ti obbliga ad essere costante. Ma inoltre hai la possibilità di tenere traccia del tuo percorso, quindi di ciò che tu stai imparando giorno per giorno ed è veramente importante. Infine, il nome è importante, entra, fa parte della community, frequenta i meetups locali, la community WordPress è fantastica, da quanto è inclusiva, è fantastica. Frequenta gli altri sviluppatori, d'altronde loro sono persone come te, con le quali tu condividi lo stesso interesse. Infatti, per anni ricerche hanno sempre dimostrato come circondarsi di persone con le quali tu condividi lo stesso interesse accelera il raggiungimento dei tuoi obiettivi. Vi lascio con questa citazione che, mentre la leggerò, suona quasi come un gioco di parole, un scioglilingue. È bello avere sogni e aspirazioni, ma senza azioni rimarranno sogni e aspirazioni. Allora, l'intento non era il scioglilingue, e bensì vi voglio lasciare con un concetto fondamentale che veramente l'ho imparato a mia esperienza, con la mia esperienza. Scusate, l'italiano se ne va via piano piano. Se hai un progetto, un sogno che vuoi raggiungere, cerca di avere un progetto di azioni concrete che vuoi effettuare e metti delle scadenze. E infine, cerca di celebrare anche quei micro risultati che trovi durante il percorso. Quelli ti motivano parecchio. Grazie. 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 Grazie.